Ciao a tutti, sono Domenico Petrolino, questo episodio di Non puoi non saperlo è dedicato al Don Quixote della Mancia di Miguel de Cervantes Saavedra. Prima di procedere, permettetemi di ricordarvi i modi per sostenere il mio canale, che sono i miei libri che trovate su Amazon e il mio account Patreon. Trovate i link ad Amazon e a Patreon nella descrizione di questo video. Bene, andiamo avanti. Come accennato, il Don Quixote della Mancia è la più importante opera letteraria dello scrittore spagnolo Miguel de Cervantes Saavedra. È una delle più importanti nella storia della letteratura mondiale. Cervantes si era aggregato alla flotta cristiana alla volta di Lepanto. E di ritorno da quell'estenuante battaglia in difesa della cristianità, viene ricoverato presso l'ospedale maggiore di Messina. È proprio qui che durante la convalescenza inizia a scrivere il Don Quixote della Mancia. Il pretesto narrativo ideato dall'autore è la figura dello storico Side Amete Benengheli, di cui Cervantes dichiara di aver ritrovato e tradotto un manoscritto in Al-Hamiado, cioè una lingua romanza scritta con caratteri arabi. Ne vediamo un esempio in questa slide. Nel quale sono raccontate le vicende appunto di questo cavaliere Don Quixote. Cervantes completa l'opera nel 1605, all'età di 57 anni. Il successo è tale che uno scrittore che usa lo pseudonimo di Alonso Fernandez ne pubblicherà la continuazione nel 1614. Cervantes, disgustato da questa operazione, diciamo, scrive una seconda parte delle avventure di Don Quixote che pubblica l'anno dopo nel 1615 e nella quale sottolinea polemicamente che racconterà appunto tutte le avventure del cavaliere fino alla sua morte. Il protagonista della vicenda del Don Quixote ovviamente è un hidalgo, cioè un nobile spagnolo, di nome Alonso Chijano, un uomo sulla cinquantina, forte di corporatura, asciutto di corpo e di viso e morbosamente appassionato di romanzi cavallereschi. Queste letture lo condizionano a tal punto da fargli perdere il senso della realtà e lo trascinano in un mondo fantastico nel quale egli è un valoroso cavaliere errante. Come prima cosa ripulisce e rimette in sesto alcune armi che erano appartenute ai suoi avi. Poi si reca dal suo cavallo che pur essendo un malconcio ronzino gli appare persino superiore al leggendario bucefalo di Alessandro Magno e decide di chiamarlo ronzinante, cioè primo fra tutti i ronzini del mondo. Infine nobilita anche il proprio nome ribattezzandosi Don Quixote della Mancia, ponendo così in evidenza il suo lignaggio col titolo Don e onorando anche la sua terra natale, appunto la Mancia. Don Quixote si mette quindi in viaggio come gli eroi dei suoi amati romanzi cavallereschi per difendere i deboli e riparare a tutte le ingiustizie del mondo. Immaginando come suo futuro premio la corona di imperatore di Trebisonda. Nella sua follia, nelle sue fantasticherie, il cavaliere trascina con sé un contadino del posto, Sancio Panza, cui promette il governo di un'isola a patto che gli faccia da scudiero. Manca però ancora qualcosa. Come tutti i cavalieri erranti, infatti, Don Quixote sente la necessità di dedicare le sue imprese a una dama e lo fa scegliendo Aldonza Lorenzo, una contadina sua vicina di casa da lui trasfigurata in una nobile dama e ribattezzata Dulcinea del Toboso. La Spagna di quegli anni, però, non è quella della cavalleria e nemmeno quella dei romanzi picareschi e quindi le opportunità di dimostrare il proprio valore sono scarsissime. Don Quixote, però, leggendo la realtà con i suoi occhi, troverà molte avventure scambiando, ad esempio, i mulini a vento con giganti dalle braccia rotanti, burattini con demoni, frati con incantatori di serpenti e greggi di pecore con eserciti di arabi, che lo ricordiamo, appunto, gli arabi sottomisero la Spagna dal 711 al 1492. Da queste battaglie, come sappiamo, il nostro eroe uscirà quasi sempre sonoramente sconfitto, suscitando anche l'ilarità delle persone che assistono alle sue folli gesta. Sancio Panza, dal canto suo, sarà in alcuni casi la controparte razionale del visionario Don Quixote, mentre in altri frangenti si farà convincere della genuinità delle visioni del padrone. Il primo libro termina con Don Quixote che, dopo innumerevoli avventure, decide di ritirarsi a vita di penitenza tra i boschi della Sierra Morena in omaggio della sua Dulcinea e manda Sancio al paese perché riferisca alla donzella delle sue sofferenze d'amore. Quando il curato e il barbiere del paese vengono a sapere da Sancio le ultime novità, riescono con un espediente a ricondurre a casa il penitente Don Quixote. Questo primo libro termina con quattro sonetti in onore del valoroso Don Quixote, di Dulcinea, di Ronzinante e di Sancio, seguiti da due epitaffi conclusivi, a dimostrazione che Cervantes non pensava allora di pubblicare la seconda parte del Don Quixote. Il secondo libro inizia con un prologo rivolto al lettore, nel quale Cervantes, come abbiamo già accennato, allude al secondo Don Quixote, di cui vediamo la copertina in questa slide. Un apocrifo scritto da Alonso Fernandez de Avellaneda è pubblicato nel 1614 e Cervantes promette di esaurire con questa seconda parte tutte le avventure dell'Hidalgo fino alla sua morte e alla sua sepoltura. Il racconto prosegue appunto con Don Quixote che nonostante le premurose cure della sua vecchia governante e della nipote, non guarisce e un giorno l'insaputa di tutti riparte all'avventura insieme al suo fido Sancio. Dopo molte battaglie, lungo la strada per Barcellona, il protagonista viene sfidato dal Cavaliere della Luna Bianca. In realtà uno studente, amico dello stesso Don Quixote, che cerca uno stratagemma per riportarlo a casa. Il Cavaliere della Luna Bianca sfida quindi il nostro eroe ad ammettere che la sua dama è più bella di Dulcinea e Don Quixote, allibito da tanta arroganza, accetta la sfida a patto che chi avesse perso si sarebbe consegnato nelle mani del vincitore. Don Quixote, tanto per cambiare, perde anche questa sfida. E messosi nelle mani di Carrasco viene quindi riportato a casa. Qui viene colto da una improvvisa febbre che lo uccide pochi giorni dopo. Parliamo adesso delle tematiche dell'opera. Allora, il primo fine del romanzo, dichiarato esplicitamente nel prologo dallo stesso Cervantes, è quello di ridicolizzare i libri di cavalleria e di satireggiare il mondo medievale. Come sappiamo, infatti, lo scrittore aveva combattuto nella battaglia di Lepanto a difesa della cristianità. Ma nonostante ciò, trascorre gli ultimi anni della sua vita in povertà, non solo non premiato per il suo valore ma addirittura dimenticato da tutti. Con quest'opera Cervantes intende quindi opporsi al comune sentire a proposito degli eroi immaginari della letteratura cavalleresca, che sono completamente inesistenti ma esaltati all'inverosimile dalla gente comune. Subito dopo le prime avventure, il protagonista Don Quixote perde gradualmente la connotazione di personaggio comico tra virgolette e acquista più spessore rendendo lo stesso romanzo molto più che una parodia o un romanzo eroi comico. Nel secondo libro poi la follia del cavaliere appare in buona parte consapevole, usata come strumento per rifiutare la volgarità e la bassezza del reale. Altro elemento importante in quest'opera è la teatralità che fa sì che il romanzo si trasformi in una grande recita che culmina con il falso duello tra Don Quixote e il cavaliere della bianca luna. Il folle cavaliere mostra quindi al lettore il problema di fondo dell'esistenza, cioè la delusione che l'uomo prova di fronte a una realtà che annulla l'immaginazione, la fantasia e il sogno di realizzazione di un progetto di esistenza con cui l'uomo si possa veramente identificare. In questo senso l'opera di Cervantes viene considerata come portavoce della crisi del rinascimento e dell'inizio del barocco, in quanto mette in luce l'esigenza da parte degli esseri umani di far emergere la propria individualità. fuori da rigidi rapporti sociali cristallizzati e facendo emergere l'istinto, la follia, il sogno, l'ignoto. Rispetto ai veri e propri poemi cavallereschi come l'Orlando Furioso ad esempio, il Don Quixote tratta di argomenti contemporanei e non che si riferiscono al passato ed è scritto in prosa e non in versi. Del romanzo piccaresco conserva l'interesse per gli aspetti più degradati della realtà quindi povere osterie, campagne desolate eccetera e anche per i personaggi più miseri ad esempio contadini, galeotti, prostitute. Ma la condizione sociale del protagonista non è quella di un piccaro cioè un briccone, un furfante bensì di un idalgo cioè un nobile. Inoltre concludiamo dicendo che rispetto al romanzo piccaresco l'opera presenta una struttura e i personaggi più complessi. Bene, se non la conoscete vi consiglio di andarvi ad ascoltare la canzone secondo me una delle più belle della musica italiana il Don Quixote di Guccini dovrebbe apparire il link in questo momento e chiudo ricordandovi velocemente i modi per sostenere il canale che sono appunto i miei libri e il mio account Patreon. Bene, direi che questo è tutto per quanto riguarda il Don Quixote di Cervantes iscrivetevi al canale per non perderevi i prossimi episodi e come sempre un sincero grazie per l'attenzione. Ciao a tutti e alla prossima!